Ben trovati telespettatori all'appuntamento con PsicoLine. Quest'anno, nel 2021, è proprio il primo appuntamento inedito. PsicoLine è curato, come rubrica, dalla dottoressa Angela Ganci, psicologo, psicoterapeuta e giornalista. Quest'oggi affronteremo un tema davvero particolare, che è il tema delle separazioni. Ma per arrivare ad una separazione, dobbiamo ripercorrere tutta una serie di tappe fondamentali, perché dobbiamo andare all'origine della formazione di una coppia, vedere come si forma la coppia allontanandosi dal nucleo familiare di origine, per poi arrivare ad una coppia, diciamo che si scoppia, consentendomi il termine, che affronta una crisi che può portare o a una separazione civile, o ad una separazione, consentitemi, incivile, perché sfocia in forme di violenza. Violenza che dobbiamo intendere come violenza di genere, perché la dottoressa Angela Ganci non guarda soltanto al femminicidio, ma anche ai casi di donne violente e casi in cui le vittime sono uomini. Vedremo infatti con la dottoressa Angela Ganci due suoi testi, editi, che sono San Salvador e Assassine, per poi andare ad analizzare anche Pianeta Salute. Ma, dottoressa Ganci, questa coppia come si forma? Intanto salve tutti i telespettatori. Questo percorso ideale che faremo, che comunque fa parte di tutta la psicologia, della formazione della famiglia e della coppia, inizia proprio quando avviene l'incontro tra due persone che poi alla fine decidono di costituire una coppia nuova rispetto alla famiglia di origine. Sottolineiamo, dottoressa Ganci, che per coppia noi non intendiamo necessariamente una coppia eterosessuale, si parla di coppie in generale. Infatti, ecco, è stato appositamente detto questo, perché poi all'interno chiaramente delle differenze di genere abbiamo anche delle specifiche conformazioni, ma momentaneamente soffroniamoci sul concetto di coppie, in quanto individualità che si incontrano, si uniscono, ciascuno portatore di una propria storia individuale e familiare, e che nell'incontro si arricchiscono, decidono di guardare insieme verso un progetto futuro, con dei sentimenti e con una passione, ovviamente a qualche livello chiaramente sessuale incluso, e quindi costruiscono una storia e anche una memoria della coppia. Ma all'inizio ovviamente c'è un incontro, c'è una passione, perché ovviamente è un primo incontro in cui non c'è una conoscenza del carattere o della personalità, si fonda su un'attrazione chimica, abbiamo i primi tempi dell'innamoramento. Il batticuore! Esatto, esatto. Fa parte molto della chimica, quindi fisica, ma fa parte anche, secondo gli psicanalisti, secondo l'approccio psicodinamico, delle immagini interne che l'altro scatena, ovvero se ad esempio ho avuto un padre amorevole e quella persona mi scatena a livello anche inconscio, non consapevole, l'immagine di mio padre accudente sarò attratta fisicamente e mentalmente. Se io per esempio anche qua la psicanalisi lo dice ho avuto un padre o una madre non presenti e quella persona invece accudente ugual modo scatenerà. Quindi ci si innamora di chi in qualche modo richiama quello che ha avuto e quello che non ha avuto, più l'attrazione fisica ovviamente. Ci potrebbero essere anche delle motivazioni a carattere un po' materialistico e quindi anche un bisogno economico o il fatto di avere, a parte i deficit affettivi, deficit nel senso di non essere in grado di affrontare la vita da soli, non avere quella maturità tale da cavarsela ecco da soli. E qui rientriamo nel capitolo ampissimo che potremmo trattare dopo se si è particolarmente interessati della dipendenza. Però in generale quando incontri qualcuno e sei autonomo di tuo, quindi non devi dipendere, sicuramente il fatto che quella persona soddisfitta e bisogni affettivi è uno delle componenti che fa scatenare l'innamoramento, la prima fase. Quella persona diventa l'ideale, diventa il non plus ultra, diventa quello che soddisfa i tuoi desideri per esempio di accudimento. Tant'è vero che l'innamoramento avviene spesso e volentieri in periodo di crisi, di assenze. Tutto insomma è fisiologico. Si passa quindi dall'innamoramento alla conoscenza più profonda in cui si evincono i pregi ma anche i difetti. Anche i difetti. Qua siamo. E quindi si comincia con la crisi da calzino abbandonato a destra e sinistra, bagno sporco. Sì, sì, questo è proprio... Chi prepara la cena, chi fa i piatti. La tipica frase, siamo separati per un calzino che denota quasi poi quando diventa eccessiva l'insopportabilità delle cose quotidiane. Però ecco, parlavo io di innamoramento, prima fase idilliaca. Gli adolescenti ce lo insegnano. Si fanno le farfalle allo stomaco, si vede il principe azzurro, la principessa, inarrivabile. Tutto il resto scompare, non ti neanche vedi anche una bella donna uomo attraenti oggettivamente perché sei tutto preso insomma da queste immagini. All'inizio ti serve anche per dieta perché mangi di meno, sei talmente preso. Infatti le crisi avvengono quando mangi dopo perché c'è la separazione. Perfettamente. E talmente si sta bene insieme e talmente la coppia è sana che porta al distacco dal nucleo familiare di origine. Sì, diventi una bolla, diventi autosufficiente con quella persona. Ovviamente questo momento di simbiosi, come quando si ha la madre nel confronto del bambino, che è normale, cioè fisiologicamente scompare. Ci si distacca. Come avviene per l'adolescente che si distacca dalla madre al rivesto del gruppo dei pari? Si incontra l'anima gemella, così che si voglia dire, e ci si distacca. A volte con dei conflitti. Ma nel momento in cui così c'è un nucleo familiare. Non è detto che coincido con l'innamoramento. Cioè mi posso innamorare e poi disinnamorare. A volte sono quei disinnamoramenti a colpo di fulmine che subito dopo sono fuochi fatui perché non c'era poi alla fine tutta questa verità nell'immagine che do. Cioè dobbiamo distinguere tra quello che io penso che l'altro sia è quello che effettivamente è nella realtà. Ma nella prima fase di innamoramento questa distinzione non la posso fare perché sono annebbiata da questa chimica. L'aspetto sessuale devo dire che è una componente essenziale delle prime fasi. Poi quella componente scema naturalmente, dice la biologia, che entro due anni, queste sono delle statistiche molto generali, l'aspetto sessuale scema naturalmente. Nessuno deve spaventarsi o dire è finito. A meno che la coppia non sia in grado di reinventarsi nel quotidiano. Bravissima. Infatti reinventarsi è la gestione, l'innaffiare quel rapporto, diventa il momento in cui l'innamoramento diventa amore. Cioè l'innamoramento è bello ma è irreale, diciamolo, è idilliaco, sta in un iperuraneo platonico per cui dobbiamo scendere sulla terra per stare insieme più tempo possibile, gradualmente. Passo, passo, questo progetto, e allora sintetizzando anche perché così diamo dei punti, sono tre elementi secondo la psicologia che permettono questo passaggio, l'innamoramento all'amore. Impegno. Impegno significa io con te ho un progetto a breve, medio e lungo termine che potrebbe coinvolgere l'acquisto di una casa, che potrebbe coinvolgere i figli, ma anche attività fatte in comune. Quindi ho l'impegno, ad esempio, che il sabato usciamo insieme piuttosto che la domenica, tranne in tempi di covid. Un discorso diverso. Chiaramente la passione che viene ravvivata, come dicevi tu, e poi appunto il sentimento. Cos'è il sentimento? Un'emozione stabile, non è affetto che è volatile. Un sentimento che ti permette di vedere quella persona nella tua vita, a prescindere dagli sbalzi di umore, dagli sbalzi di... anche delle diversità nel tempo, perché nel tempo si cambia. Quindi se c'è quest'amore, questa passione, questo impegno, ogni variazione della personalità, ogni arrabbiatura, ogni crisi viene superata. E se invece ci focalizziamo solo sulle bellezze della vita, le bellezze della persona, quando abbiamo... diciamo, sopraggiungono i difetti... arriva la cosiddetta coppia che scoppia, quando in realtà non ci sono elementi di stabilizzazione. Quindi prendiamoci il consiglio qui, tempo per conoscere quella persona, per fare come una bilancia, per spesare aspetti positivi e negativi, e quanto noi tolleriamo soprattutto i difetti. In questa bilancia capiremo se quella persona è fatta per noi, fatta tra virgolette per noi in quel periodo. Quindi se possiamo costruire qualcosa insieme e progredire nella storia, crescere insieme, oppure se avviene il momento di crisi. Andando alla crisi, i fattori scatenanti, la crisi, diciamo, civile, che porta a una separazione civile, e la crisi che invece porta a gesti di violenza vera e propria, che ormai sono all'ordine del giorno, purtroppo. Siamo appunto in un periodo più che caldo, la condizione della violenza è una condizione che si verifica da notte dei tempi, è sempre esistita la violenza come, diciamo, istinto, di cui parlava anche Freud, primordiale, istinto che distrugge le relazioni. Ma in questo caso la crisi, quando inizia della coppia, quando appunto, dicevo, i difetti superano i pregi. Difetti, quindi, si diventa quasi intollerabili, indigesti a certe parti dell'altra persona. E quindi si inizia a trascurare la relazione, si è visto che quando si è in periodo di crisi, quindi di incomunicabilità, quando manca il dialogo, fondamentalmente la stima, l'attrazione fisica, tutto, allora le persone stanno insieme nella stessa stanza, ma in realtà, per esempio, vedi, è sempre il cellulare, ognuno poi mentalmente da un'altra parte, o si fa finta quasi di non parlare, si evita poi il contatto fisico, e questo è un segnale forte. Un altro segnale forte è di crisi, quindi di... Cioè chi dorme sul divano, di rapporto, sì, poi noti dei segnali, cioè l'amore e la passione, chiaramente, a dei segnali invece opposti, l'ha bisogno di vicinanza, bisogno di carezze, bisogno di... Contatto fisico. Di contatto visivo anche, che aumenta la produzione di ossitocina, che è un importante ormone della felicità, insieme all'adrenalina, quindi... Quando invece la crisi, e quindi si nota subito perché eviti di guardare la persona che ami nello sguardo, ma anche un amico in realtà, quindi... Ti dà fastidio che ti sfiori la mano. Sì, appunto, perché è un evitamento. Comincia a darti fastidio quello che aveva fatto nascere la storia d'amore, quindi il suo profumo, il suo aspetto, come si veste, diventano improvvisamente tutti difetti. Ma, appunto, anche benissimo, diciamo, l'odore che aumenta i feromoni, i feromoni che sono proprio gli ormoni che ci accomunano con gli animali e che proprio sono chiamati in causa nel nascere della passione. Cioè, se tu hai un buon odore, ma non parliamo dell'odore, del profumo che metti, Dior, per fare pubblicità, non faccio pubblicità nulla, ma è il primo che mi è venuto in mente. No, non l'ha fatto, è un odore naturale e che a livello proprio animalesco perché attiva proprio l'irine encefalo, che è la parte del cervello più primitiva, condividiamo con i rettili, tra l'altro. Allora, in questo caso, ti piace quell'odore, non sai perché, ma l'odore della tua preda, tra virgolette, di quella persona che ti fa vedere flore nello stomaco ed altri no. Quindi è un odore naturale. Ecco, per cui, coprire l'odore naturale col profumo non è mai indicato. Questa è anche un'altra accortezza. Però, a un certo punto, ecco, ti dà fastidio proprio la presenza e quindi eviti anche lo sguardo, eviti il contatto fisico. Potresti anche trascurarti perché ti senti assolutamente trascurato proprio perché la crisi e quindi virare, girare, spesso e volentieri accade verso altre direzioni, altri incontri, anche mediata da Facebook, ad esempio, adesso sì, c'è un canale, Facebook o la Mediaticità. Dottor Seganchi, tradimenti, gelosie e la gelosia è proprio il tema di un suo scritto, San Salvador, dove il soggetto violento è una donna e la vittima è un uomo per gelosia. Benissimo. Dunque, io su questo della gelosia femminile, dell'omicidio, della violenza femminile, tengo particolarmente, sia perché, appunto, anche col libro assassine, di cui parlerò un attimo in seguito si evince. Però, ecco, proprio anche per i formamenti, anche per un discorso di cronaca e di diffusione di un'informazione corretta, la violenza non è soltanto identificabile con il femminicidio, sicuramente il femminicidio esiste ed è un problema gravissimo e la statistica ci aiuta a capire questo. Però, ecco, la violenza è al di là del genere. La violenza è proprio quell'elemento distruttivo che non ti consente di creare legami, anziché spezia i legami per gelosia, per invidia, per ripicca, quello che vuoi tu. Però non fa parte prettamente del genere maschile, anche se maschio, l'uomo, ecco, del sesso maschile è più propenso sia perché ha più elevato il livello di testosterone sia perché culturalmente è più difeso, cioè più incline, più educato, ecco, ad esprimere l'aggressività. E' in genere il dominante. Sì, culturalmente è più normale, tra virgolette, che un uomo esprima un'aggressività, soprattutto fisica, ecco, la donna, no? Mentre lei, altro testo, addirittura assassine, improntato proprio sulle donne che arrivano a compiere il gesto estremo di uccidere un uomo. Beh, tutti i due testi sono sull'assassino al femminile. San Salvador l'ho scritto come romanzo molto tempo prima di assassine. Avevo già probabilmente in mente questo tipo di approccio. Però ecco, Mente San Salvador è una storia a metà tra inventata e reale perché nasce da una testimonianza di una paziente e chiaramente con dei lamenti figurati. Però in questo caso la donna, Marta, che è la protagonista, uccide Thomas, il suo fidanzato, ancora non uomo, perché immagina con una fantasia fervida che lui lo possa tradire. Va proprio a pianificare tutto. Lo uccide in un motel, lo va a trovare, lo va a cercare. e addirittura questa sua fantasia non solo fantasia ma pratica assassina coinvolge e trova i complici. Li trova e addirittura trova il metodo, si informa su internet in questo caso che tipo di tecnica utilizzare, prendendo un punto dall'elettrato secondo cui le donne utilizzano un'aggressività che si fonda su una violenza o verbale, manipolazione o l'utilizzo per esempio di veleni. La donna uccide soprattutto 90% secondo una statistica di veleni. Non uccide quasi mai per aggressione fisica quasi mai per coltello pugnale. Quindi la classica donna era una subdola che tesse le sue trame con dei complici seduttiva e che uccide a piccole dosi col veleno. Quindi è difficile da identificare. O fa uccidere ad altri o uccide ad un amandante chiaramente però mai aggressività plateale o difficilmente colta in fragrante la donna rispetto all'uomo. Siamo brave. C'è una tattica di seduttività di manipolazione la donna amica affabile estroversa quella che anche nel film in un film American Beauty che probabilmente chi ascolta avrà sicuramente visto americano proprio la famiglia perfetta la donna ideale casalinga tutto fare e nasconde questa come dottor Giochieri misteri di una seconda personalità distruttiva e allora si distrugge per gelosia ma anche presunta perché senza avere le prove questo è la gelosia assassina perché te nasconde quindi un disturbo un disturbo in questo caso da Marta è il disturbo psichiatrico non c'è dubbio rottura con la realtà perché anche la gelosia che diventa patologica e che quindi vuole che l'altro sia tuo o con me o senza di te come viene lo stalking io ti uccido perché mi hai ferito deluso e mi hai distrutto ma è una percezione su questo tema invece abbiamo pianeta salute sul tema dello stalking esatto si pianeta salute a 360 gradi nota la coppia che tipo di patologie esistono all'interno della coppia e specificatamente sullo stalking che fa parte della violenza quando andiamo oltre ovviamente andiamo all'omicidio ma sotto forma romanzata ma io ho scelto il romanzo perché il romanzo a parte che ti coinvolge con gli ambienti con le descrizioni con i personaggi questi sono inventati va bene però ti dà il senso che tra realtà è fantasia in realtà tra realtà è fantasia c'è a volte un confine labile devo dire che da psicoterapeuta ho sentito delle storie che era difficile anche immaginare cioè le storie vere di persone vittime di violenza che mi occupo soprattutto di abuso sono veramente particolari diciamo immediatamente i nostri telespettatori che potranno presentare i loro casi presentare delle domande avere delle informazioni proprio scrivendo a psicoline chiocciola gmail punto com e avremo modo di affrontare in forma anonima ovviamente i vostri quesiti i vostri problemi con la dottoressa Angela Ganci risponderemo risponderemo assolutamente questo è sicuro e quindi ecco parliamo della violenza femminile come da divulgare a mio avviso poi ognuno chiaramente ha il suo ambito proprio perché è più nascosto è più difficile e soprattutto questo tabù culturale che la donna non sia naturalmente aggressiva sfatiamolo perché nel momento in cui non attenzioniamo questo aspetto e pensiamo che non esista invece è proprio lì che diventa terreno fertile per un'azione sotterranea in questo caso della donna d'altronde e qui dico i magistrati gli avvocati sapranno meglio di me che chi regge la famiglia per esempio nelle cosche nella mafia sicuramente tra tra le prime gestori di tutta una serie di delitti sicuramente c'è la figura della donna ma questo è il dubbio è inevitabile quindi sicuramente la donna che sia mandante tra virgolette è fatto storico dico non stiamo qui a dire delle cose sono delle cose ovvie però ecco perché la donna e la madre sono così importanti ne parliamo sempre nei psicologi rapporto con la madre psicopatologie perché effettivamente il potere che ha una madre di distruggerti l'autostima o di costruire una buona autostima diventa la base anche per la futura formazione della coppia in che senso se la madre mi ha educato o ha una vita matrimoniale a sua volta o coniugale a sua volta soddisfacente a me mio figlio mi educherà verso una relazione fondata sul complicità il dialogo l'interscambio senza avere questa gelosia o questi attaccamenti morbosi per cui trovi spessissimo e qui visitare spettatori probabilmente qualcuno avrà sperimentato anche dopo il tetto coniugale che si compie un attaccamento morboso proprio nel senso telefonate anche 10-20 telefonate al giorno con la madre come se fossero ancora bamboccioni mammoni è un attaccamento difficile da da staccare un accordo ombelicale che è difficile da staccare ma che preesisteva quindi in realtà è la madre quindi che ha creato una dipendenza facendo credere al figlio di non essere in grado di far nulla da solo questo nei casi anche diciamo patologici sì è difficile per un figlio che dipende dalla madre staccarsi è veramente complicato però si dice ecco da questo punto di vista che ci si sposa sempre minimo in tre è vero questo è assolutamente vero perché ti sposi hai sempre una presenza più o meno virtuale di non voglio dire un terzo incomodo buona pace dell'esuocero però effettivamente con l'intrusività di un elemento esterno che può essere la suocera non me ne vogliono i cognati ma si è visto attivamente fonte di stress anche nella coppia che vanno a minare un circuito un sistema un equilibrio un sistema proprio un sistema che si deve reggere per reggere nel tempo di complicità dialogo discussione è all'interno del nucleo cioè davvero i panni sporchi si levano in famiglia dentro una famiglia perché l'aiuto sì ma la decisione spetta il sistema famiglia in quanto autonomo non mi posso far influenzare la decisione altrui perché tra l'altro ognuno dà una sua visione e mi confondo quindi la coppia che regge è quella che risolve i problemi dentro la coppia con l'aiuto ma senza ingerenza questo è un suggerimento preziosissimo per i telespettatori risolvere la crisi all'interno della coppia stessa se non si è in grado di risolvere ci sono dei modi dottoressa Ganci lei mi dirà per prevenire che sarebbe la soluzione migliore ma anche per risolvere ecco perché vi invitiamo e lo ripeto ancora a scrivere psicoline chiocciola gmail.com i modi per prevenire i modi per risolvere non ho specificato probabilmente che la crisi si risolve entro la coppia qualora chiaramente sia una crisi di media lieve entità una crisi che può derivare per esempio da una decisione rispetto ad esempio anche banale quale indirizzo dare al figlio per la scuola oppure quale che arredamento dare oppure anche di diversa natura però sempre dove non si tratti di violenza veniamo sempre qui la violenza invece è un discorso diverso è diverso perché lì dentro lì dentro in quel sistema che già ha delle patologie e dentro all'interno della violenza è proprio l'aggressore che invece tende a mantenere dentro il sistema la persona per non farla rendere autonoma e quindi hai perso giocarla per dominarla in quel caso invece l'aiuto esterno diventa fondamentale dobbiamo capire che intendiamo per crisi quando la crisi è una crisi fisiologica che si risolve col dialogo se si risolve che venga l'autonomia ma quando la crisi diventa poi non rispetto diventa imposizione diventa screditare aggredire verbalmente la persona allora la coppia in realtà non esiste più ma esistono gli aiuti esterni esiste anche in questo caso la denuncia o il supporto da parte di enti del territorio terapia è una terapia allora se tu parli di terapia psicologica sicuramente abbiamo pregi e difetti uno dei limiti è quello che è una terapia volontaria necessariamente la psicoterapia è su base volontaria quindi a me capita spessissimo di donne o uomini anche uomini che denunciano violenze o crisi l'alternamento della coppia non è disposto a partecipare per motivi più vari anche immaginabili nel caso una terapia è percorribile a livello individuale ai suoi effetti chiaramente anche un aiuto esterni rispetto all'interno della coppia e prevede sessioni per aumentare l'autostima quindi per volersi più bene per non indulgere nel litigio della coppia che diventa momento anche di istruzione della propria vita quindi prima mettersi in gioco valutare se stessi per vivere meglio poi il rapporto con l'altro sì non colpevolizzarsi o non accusare troppo l'altro cercare degli spazi privati per non incadere sempre è colpa tua è colpa mia quindi abbiamo delle situazioni veramente pesanti e quando la terapia appunto non fosse percorribile non dobbiamo dire necessariamente la terapia di coppia la risoluzione è necessaria perché per particolare esperienza è difficile è difficile fare intervenire la coppia per un dialogo in cui uno non accusi l'altro poi nelle separazioni si nota c'è un'accusa a vicenda è difficissimo proprio fare cioè entrare dentro un dialogo costruttivo perché le voci sono talmente alte c'è un escalation che uno parla sull'altro e anche l'operatore ha difficoltà di gestione a fare silenzio infatti la parola è quella di silenzio vi ascoltate perché quando c'è la crisi non ci si ascolta più ognuno dice quello che l'altro sarebbe dovuto essere piuttosto che quello che eri non sei più quello che non ha fatto piuttosto che quello che ha fatto o quello ti ricordi quando eravamo giovani eravamo giovani ma adesso non sono più giovani cioè si cambia col tempo e quindi la tolleranza diventa l'elemento che fa strada la coppia nella stabilità poi parlavi di prevenzione la prevenzione si fa prima del problema prevenzione primaria che è auspicabilissima nei sistemi si dovrebbe fare io direi addirittura prima del concepimento in che senso concependo un bambino nella mente proprio dei genitori una persona che metti al mondo un essere umano che lascerai chiaramente un giorno e a cui deve insegnare rispetto per l'altro si chiama alfabetizzazione emotiva devi insegnare che propri bisogni interessano ma contano anche quelli dell'altro innanzitutto non imponendo perché se tu al bambino non imponi una strada lui la sceglie imparerà non imporre a se stesso quindi è tutto un discorso di modelli educativi con cui poi vai avanti tutta la vita un imprinting durante le prime fasi della vita e poi il rispetto è assolutamente qualcosa che ti porti nel tuo DNA e quando invece non lo vivi è difficile anche dare portare il rispetto se non l'hai avuto quindi una prevenzione che per carità venga nelle scuole con i progetti di alfabetizzazione fin dalla scuola dell'infanzia al nido quello che vuoi però se non porti dentro di te una cultura familiare del rispetto e anche del lasciare andare perché quando la relazione non va si lascia andare per rispetto dell'altro e per rispetto tuo allora finché il povero non cambia la cultura possiamo fare i progetti ma il progetto si fermerà per esempio a scuola e non andrà nelle famiglie quindi ecco perché per i docenti per gli alunni se io sempre faccio un progetto di alfabetizzazione ma le famiglie devono intervenire devono essere presenti dobbiamo fare questo famosissimo patto di corresponsabilità che firmano le scuole lo dico anche in quanto docente e si firma un patto in cui prendo la responsabilità dei miei diritti di essere assistito per esempio dal docente e diritto anche di assistere perché senza sistemi il bambino crescerà pensando che tutto è lecito invece no diritti e doveri che crescerebbe dottoressa Ganci io la ringrazio quindi telespettatori come avete ben capito è un tema veramente amplissimo che richiama tutta una serie di altre problematiche dai momenti preventivi ai momenti risolutivi della crisi a come evitare di arrivare a vere e proprie forme di violenza estreme proprio con un'alfabetizzazione di carattere emotivo a questo punto vi invito ancora a scrivere a psicoline chiocciola gmail.com in modo tale da poter rispondere ai vostri problemi ai vostri quesiti insieme alla dottoressa Angela Ganci per questa sera è tutto grazie e arrivederci alla prossima puntata di Psicoline grazie